L'indagine è partita il 16 giugno, dopo l'intervento della polizia per una violenta lite tra prostitute finite con una giovane accoltellata ad una coscia. Gli agenti, nei mesi successivi, hanno ricostruito la dinamica dello scontro tra luciole indipendenti e quelle gestite da una coppia di albanesi che da tempo esercitava una sorta di prelazione sul marciapiede. Si tratta di Fabiana Oxa, 21 anni, immigrata ed irregolare, e Florian Prini, 23, regolare in Italia e con precedenti per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il residence di Torre Pedrera, dove venerdì mattina sono stati arrestati, era da tempo base logistica per il business della prostituzione. Devono entrambi rispondere di lesioni, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e distorsione. Pretendevano una tassa giornaliera da 50 euro dalle ragazze concorrenti, come diritto di marciapiede sulla statale 16. La lite da cui tutto è partito scoppiò proprio per una mancata riscossione. Si parte con una richiesta di 50 euro al giorno, questo almeno abbiamo appurato dalle indagini, somma che non è stata corrisposta dalle ragazze, quindi ciò ha portato alla violenta aggressione di giugno 2014, ma il reale obiettivo era quello di assoggettarli, inglobarli nella loro scuderia. Grazie. Grazie. Grazie.